Ciao, sono Tiziano Zanotti. Negli ultimi quattro anni ho dedicato tutto il mio tempo a costruire il corso Bassista Contemporanea Online, che è il primo corso professionale per basso elettrico che puoi seguire interamente su internet. Questo corso, che è nato nel 2016, è stato continuamente perfezionato per arrivare adesso ad avere circa 500 video. Ha dato e continua a dare i fondamenti tecnici e musicali a centinaia di Bassisti di tutta l'età. Parliamo di un corso che parte da zero, cioè dalle basi, e ti porta a suonare tutti i generi e a conoscere tutte le tecniche principali del basso elettrico. Non solo, nel corso trovi anche le materie come Ear Training, Ritmiche e Teoria, che sono la base fondamentale per un Bassista esperto nella musica moderna. Perché ho ideato questo tipo di corso? Ovviamente internet è piena di tutorial, di video dedicati a chi vuole imparare uno strumento, però mi sono accorto di un problema. In genere si tratta di materiali disorganizzati, oppure senza sostanza, che fanno perdere molto tempo. Cosa ho deciso di fare? Avevo già il libro Bassista Contemporaneo, che uso già da diversi anni al Bass Lab di Bologna. Ho deciso di aggiungere tutta la parte video relativa a questo corso. Seguendo esattamente l'ordine del libro, ho preso i vari argomenti e li ho trasformati in video lezioni, con tutte le spiegazioni e le dimostrazioni pratiche fatte direttamente da me. Quindi, zero dubbi e incertezze su come usare il libro, perché tutto è chiarito da me nel dettaglio. Il bello di questo corso è che quasi tutto il lavoro lo fai da solo, gestendo il tuo tempo nel miglior dei modi, ma studi con una struttura precisa che segue l'ordine esatto dei video. Cosa c'è dentro il corso online? Oggi il corso è strutturato in tre sezioni di 10 lezioni l'una per un totale di circa 500 video. Ogni video ti spiega l'argomento della lezione in modo molto chiaro e completo e subito hai l'applicazione sullo strumento. Tutti gli esercizi, ad esempio di tecnica di ritmiche, sono eseguiti interamente a video e quindi tu potrai suonarli insieme a me e verificare esattamente come stai procedendo. Quindi da dove devi partire? Ovviamente devi partire dalla prima sezione, lezione 1-10. Indipendentemente dal tuo livello, parti da qui. Che tu sia principiante o che suoni da diversi anni devi partire dall'inizio. Le prime 10 lezioni del Bassista Contemporaneo Online infatti sono le più importanti. Ti danno tutte le conoscenze tecnico-teoriche di base per affrontare tutta la musica moderna. L'obiettivo di queste lezioni è farti entrare in modo completo dentro l'argomento, affrontando in maniera graduale tutte le materie necessarie. Questi sono i passi da seguire. Uno, ti serve un collegamento internet per accedere alla piattaforma. Due, una volta che sei dentro, segui la procedura per procurarti il volume 1 e l'accesso alle lezioni. Terzo, guardi tutti i video nell'ordine con lo strumento suonando insieme a me. Se segui questa semplice procedura libro più video non puoi sbagliare. Mi auguro di vederti presto nel corso Bassista Contemporaneo Online. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!